Varietà nell'arte, questo è il titolo dell'esposizione personale che la pittrice barlettana Marina Chiarazzo ha voluto organizzare nella sua città, per la precisione un po' distante dal centro cittadino, presso il circolo Le Ture nei pressi di Montaltino. L'idea è quella di apprezzare le opere dell'artista in un luogo in assoluto svago e relax e allora al colore che da emozioni, giocando con e nelle immagini in una ricercata armonia dei sentimenti. Il visitatore è spinto a giocare con le forme audaci che richiamano ricordi ed emozioni del passato, la varietà e anche nell'uso delle tecniche pittoriche, infatti sono esposte opere ad acquerello, a tempera e anche a olio. La disegnatrice, che iniziò sotto la sicura guida di Maria Picardi Koliak, che l'ha istruita all'uso dei pastelli a cera e l'ha iniziata all'uso della tempera già in tenera età, sarà in mostra con le sue opere fino al 18 settembre durante le ore serali. Questa mia mostra l'ho voluta intitolare Varietà nell'arte appunto perché ho voluto esporre i più svariati soggetti che ho prodotto durante il mio percorso artistico, durante tutti questi anni. Ho dipinto appunto vari soggetti, dai ritratti, nature morte, paesaggi, eccetera. L'arte che preferisco di più è quella stilizzata. Il mio artista preferito è Andy Warhol, infatti mi ispiro molto a lui. La maggior parte dei quadri sono appunto stilizzati, ho voluto rappresentarli nei più svariati generi. La Chiarazzo ha già messo in mostra i suoi quadri partecipando a diverse esposizioni collettive organizzate nella città di Barletta e in altri centri limitrofi. Nel 2019 si registrano le sue prime personali in Toscana nei pressi di Pistoia. La sua passione per l'arte stilizzata ma non solo, si presenta in questa sua personale.